La Regione Campania, attraverso una proposta dell'assessore al lavoro Sonia Palmeri e dell'assessore alla formazione Chiara Marciani, ha approvato la programmazione finanziaria sull'apprendistato in Campania. Il provvedimento definisce le varie tipologie di apprendistato che saranno finanziate su tutto il territorio regionale con una dotazione complessiva di 14 milioni di euro, dall'apprendistato professionalizzante a quello di alta formazione e ricerca, alla valorizzazione delle botteghe scuola per concludere con incentivi alle imprese, finalizzati alla trasformazione del contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato. È fondamentale conoscere ed entrare nel mondo del lavoro il prima possibile. Tutti gli studenti sono utili, dall'alternanza scuola-lavoro all'apprendistato a garanzie a giovani, alle misure per i giovani professionisti, a quelle per i giovani agricoltori, alle misure per creare nuove aziende, sottolinea l'assessore Palmeri. Dobbiamo puntare, continua, sulle varie forme di apprendistato, comprese le botteghe scuola, per non dimenticare anche i settori basilari della nostra economia. Hanno creato tanta occupazione e nei decenni scorsi possono ancora contribuire a crearne il tutto accanto alla crescita dell'economia 4.0. Uno dei nostri obiettivi centrali è generare continuamente opportunità di lavoro per i giovani, evitando le migrazioni involontarie fuori regione, affidando un ruolo di primo piano alle imprese, valorizzandone il ruolo formativo e sociale nello sviluppo della nostra regione.